ciao amiche di filo oggi voglio mostrarvi alcuni progetti che trovate qui sul canale e vi lascio quindi link nella casella delle informazioni ricordo che sul canale trovate oltre 900 tutorial quindi ne trovate veramente tanti vi potete sbizzerrire adesso in vista della pasqua veramente ci sono tante idee vi lascio la playlist completa nella casella delle informazioni voglio darvi però anche una comunicazione che è importante perché inevitabilmente vedrete dei piccoli cambiamenti qua sul canale in questo periodo che spero sia il più breve possibile poiché ho un menisco lesionato questo compromette molto le mie la mia capacità di muovermi quindi di stare in piedi seduta oppure ecco devo stare in una posizione particolare mi stanco molto facilmente e devo fare quindi molta attenzione è difficoltoso anche passare da questa postazione a quella per cucire vi dicevo questo avrà inevitabilmente delle ripercussioni anche su i progetti che condivido con voi perché insomma farò quello che posso in funzione della mia condizione non posso fare più di tanto insomma sapete che mi piace condividere mi piace creare anzi in questo periodo mi aiuta proprio a stare anche meglio visto che sono chiusa all'interno di quattro mura non potendo fare molto altro insomma quindi sarà terapeutico per me però compatibilmente vi ripeto con quello che posso allora quindi per la produzione di nuovi video saranno sicuramente molto rallentati o comunque molto più semplici però vi rassicuro perché in realtà ho preparato dei video già da qualche mese e quindi quelli comunque ve li proporrò in questo periodo quindi troverete comunque contenuti nuovi però vi chiedo un pochino di pazienza se insomma se il canale non sarà portato avanti come ho fatto nei periodi passati però sono sicura che voi capirete perfettamente quindi comunque condividete i miei video condividete casomai anche video di qualche tempo fa lasciatemi like lasciatemi commenti insomma io credo in voi quindi nel vostro supporto ok adesso cambiamo argomento e passiamo a a vedere i progetti che vi volevo mostrare questo è un'idea estremamente facile che vi ho proposto qualche anno fa penso però io ce l'ho diciamo all'ingresso della mia casa e devo dire che mi piace sempre tantissimo guardate è molto molto carino quindi guardate lo link nell'info box quest'anno invece vi ho proposto questo cappello anche questo molto molto bello di questo trovate il tutorial e tutte le indicazioni per altre si fa con è molto economico anche da fare potrebbe essere anche una bella idea da regalare a pasqua e poi questi coniglietti però trovate le versioni anche degli altri anni questi sono come segna posto come piccolo accesso diciamo per decorare l'albero di pasqua e così via però trovate quelli degli anni passati più grandi carta modelli gratuiti e quant'altro quindi trovate tutto nella casella delle informazioni si possono fare sia cucendoli che senza cucire quindi non necessario neppure utilizzare la macchina per cucire per decorare le nostre creazioni vi ho proposto anche il tutorial delle farfalline in pannolenci o in tessuto vi faccio un esempio adesso qui io non l'ho neppure messo potrebbe essere carino mettere scusate così potrebbe essere carino sistemare questa farfalla ovviamente con un colore casomai più vivace insomma questa non è abbinata però metterla per decorare le nostre creazioni carino secondo me questo progetto è da salvare da mettere like e condividere perché un progetto vi piace se voi mettete il like li ritrovate poi facilmente quando insomma state ricercate molto più facilmente fra i video piaciuti poi un progetto che che avete apprezzato tanto molto molto semplice anche in questo caso non dice non è necessaria la macchina per cucire sono queste bamboline con il sapone all'interno quindi ve la lascio carinissima super economico molto spiritoso insomma come idea poi questa idea di bomboniera anche questa è estremamente facile aperta però perfettamente rifinita guardate vedete la perché è simpaticissima io in questo caso avevo messo le cose per san valentino ma potete mettere gli ovetti di pasqua e anche questi possono essere un bel segnaposto e poi da usare come profumatore una volta che avete tolto i confetti poi idea per le persone più anziane o per i bambini questa qui per mettere le carte da gioco quindi se non l'avete vista un'idea per riciclare i cd però se non avete cd da riciclare fatele con dei cartoncini anche con i cartoncini che trovate all'interno delle merendine per intenderci a belle merendine non si dovrebbero consumare però diciamo i cartoncini che potete riciclare in casa fate i cerchi insomma ingegnatevi perché qualche amica l'ha fatto proprio con il cartoncino cerchio e poi ha ritagliato diciamo la parte centrale ed è venuto benissimo anzi lei ne ha fatte la produzione industriale poi vi voglio mostrare una borsa super super bella comoda per portare i quaderni quadernoni questa da portare al lavoro è carino io l'ho fatta in velluto però la potete fare anche con altri tessuti va bene quindi con il tessuto che preferite eventualmente lo rinforzate un pochino però questa è veramente molto molto bella poi all'interno c'è questa borsa che vi ho fatto vedere tante volte che così vedete chiusa come se fosse pacchettino e poi invece dentro è una busta vera e propria pure di questo eventualmente vi lascio il tutorial e si richiude anche questa è una bellissima idea casomai da regalare a pasqua molto molto bene poi qui all'interno ho messo anche questo accessorio che è di sughero in molte allora vi ho pubblicato qualche giorno fa delle idee cioè i tessuti di sughero chiamiamoli così tessuti di sughero e dice che cosa possiamo fare con questi vestiti ad esempio dei portachiavi io l'ho fatto per mio marito con i tessuti di giola ottimi e lo sta utilizzando tantissimo anche se ci dà l'idea che può essere più fragile invece devo dire che è perfetto anche dopo diversi mesi di utilizzo e l'utilizzo c'è perché poi uno questi portachiavi insomma li utilizza tutti i giorni li stressa un pochino tutti i giorni ricordatevi che con i ritagli di stoffa si possono fare delle cose molto molto carine per esempio questo porta monete qua facile carino e così via non mi dilungherò oltre vi faccio vedere l'ultimo progetto che ho preparato che è questo porta rotoli dove quindi possiamo mettere l'alluminio la pellicola e la carta forno guardate è super facile super carino molto molto interessante vi lascio tutti questi link nella casella delle informazioni vi mando un grandissimo abbraccio non fatemi mancare il vostro sostegno a in ultimo vi ricordo di questa borsa qui che in realtà ho realizzato recuperando questi tessuti e guardate qui in basso li ho messo invece l'ho assemblata con i tessuti in orizzontale vedete in verticale ed in orizzontale spero di avervi dato degli spunti interessanti per le vostre creazioni vi mando un abbraccio grandissimo e vi aspetto molto presto qui sul canale ciao a presto ciao a presto